Tadàoo, e tadà! Ci sono i nuovi episodi di Coro l'esploratrice! Ero, e quello che non sbaglio c'è tanto, in cui non si parate, che è tutto pronto per i nuovi fantasmi che avventure! Dessere giù di questo malo, rispavate la nata, quanti modi in grado di... ma vuol'è che non è vero il patenone? L'università di Mastro, che cos'è tanto da imparare! Coro l'esploratrice, i nuovi episodi, imprimati tutti i giorni, Un'altra nuova, 17 minuti, su Cartunito. Cartunito, torna tra pochissimo, non andartene. Sono stato di scegliere, ormai sono arrivati. Non sono venuto di scegliere, sono arrivato in novitro, attento, attento, si mette in giro, fra l'opinale, attento.